Resta un mistero il ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione incagliato in una scogliera di portocanale a Margherita di Savoia. Il cadavere è stato notato da un gruppo di giovani che si trovava lì per caso, gli stessi che hanno poi allertato le autorità locali. Con tutta probabilità potrebbe trattarsi di un uomo alto circa un metro e settanta quando è stato recuperato, indossava un jeans scuro e delle scarpe da ginnastica secondo quanto appreso sotto i jeans aveva anche un costume da bagno. Ma l'elemento che interroga ulteriormente i carabinieri della compagnia di Barletta coordinati dalla procura di Foggia nelle indagini è un foro riscontrato sul cranio. Non è chiaro se possa trattarsi di una ferita da arma da fuoco o da un colpo ricevuto alla testa. Sarà l'esame autoptico disposto dalla procura foggiana a chiarire questo passaggio. Intanto sono in corso anche le indagini forensi che consentiranno di risalire alle possibili identità della vittima. Il cadavere si trova nell'Istituto di Medicina Legale di Foggia. Gli inquirenti in queste ore stanno recuperando l'elenco delle persone scomparse per incrociare successivamente i dati. Interrogativi restano molti. Oltre all'identità bisogna comprendere infatti come quel corpo sia arrivato sulla scogliera della costa salinara se trascinato dalle correnti, ipotesi principale, o se si trovasse lì da più tempo. Quel che è certo è che l'avanzato stato di decomposizione lascia intendere che la morte sia sopraggiunta diversi mesi fa. Difficile dunque pensare che quel cadavere fosse incagliato tra gli scogli da molto tempo. Qualcuno avrebbe potuto notarlo prima? Si attendono quindi i primi risultati delle indagini forensi e dell'esame utoplico, elementi scientifici necessari per proseguire negli accertamenti. Sempre in base agli esami dipenderà anche l'ipotesi di reato su cui la procura dovrà indagare.